È stato fatto uno studio sulla fattibilità per la messa in sicurezza per la ristrutturazione dell'istituto artistico, è venuto fuori da questo studio che era più conveniente realizzare una struttura ex novo e renderla più funzionale e soprattutto più adeguata alle esigenze del corpo docente e dei ragazzi che fruiranno di questa scuola. Più aule, meno metri quadri sulla struttura, più aule e soprattutto più laboratori affinché i ragazzi possano sfruttare al meglio le potenzialità di questa scuola. Sono dei fondi Sisma già precedentemente assegnati alla nostra provincia, ringrazio il progettista dell'opera, l'ideatore dell'opera e gli uffici che comunque hanno fatto un lavoro enorme affinché la provincia potesse accedere a questo importante finanziamento di questi quasi 5 milioni di euro. È un'opera che comunque riqualificherà anche la zona in cui l'eliceo artistico è ubicato. È un evento importante anche per la città di Teramo perché comunque si vedrà riqualificato non solo l'istituto artistico ma anche tutto il comprensorio in cui esso è ubicato. Nel 2020 dovrebbero partire i lavori, adesso successivamente le ferie estive partirà il bando per la progettazione, così mi hanno riferito gli uffici. Non siamo riusciti a partire subito perché il bando è molto corposo in quanto è una somma molto importante e quindi ci sono delle cose da sistemare prima. Adesso ci sono le ferie estive, appena le ferie estive, ripeto, ci sarà il bando per la progettazione e a seguire poi il bando per l'affidamento dei lavori. In un paio d'anni la struttura potrà essere fruibile a tutta la città di Teramo e ai ragazzi del liceo artistico.